Benvenuti in questo nuovo video Riuscirò a superare il mio mal di gola Se sentite qualche rumore Sono i miei di là Non mi vogliono abbandonare a casa da sola Potrei fare i video con calma Quindi devo farli con loro di là in un'altra stanza Però fortunatamente non ci sono più 4000 gradi Quindi posso farlo in camera mia Se vedrete tutto dietro un casino Perché commento la posizione della mia stanza Allora Cosa andiamo a parlare in questo video? Allora Io andrei a 93 Ovviamente questo video è in collaborazione Ve lo lascio sopra in alto qualche parte Se andate a mangiare sabato sera Finalmente dopo tanto tempo A Yukinit Ecco la formula Yukinit A Dico Che è uno dei nostri ristoranti preferiti Di sushi Ora Visto che andrei a Come avete visto in un altro video Che io vi lascio sopra Se riesco Dove appunto subito un'operazione Quindi non è stato male Mi ho deciso appunto Visto che sarà Un pochettino ripreso Poteva mangiare Mettiamo mangiare sushi Non vi parlerò fuori campo O nello sfondo del video Mentre vi faccio vedere cosa mangio Perché stavolta preferisco Che vi godiate Quello che abbiamo preso Se ci sono delle cose doppie Non è perché sono impazzita Non è un errore Ma perché abbiamo preso cose Che erano uguali Quindi non è un errore Alcune cose invece mancano Perché ovviamente Visto che comunque Avevamo anche fame E poi molti piatti arrivavano Dovamo ordinare Ne altri Non sempre siamo stati pronti Con la fotocamera A poter fare le foto Dunque Spero che apprezziate Questo video Quello che abbiamo preso Noi adoriamo molto molto il sushi Ci tengo a precisare Soprattutto quello crudo Quindi se vedrete Molto sushi Tipo sashimi crudo È tutto normale E vi assicuriamo Che il ristorante È uno dei Più controllatissimi Di Torino Su appunto Trattamento Cura Preparazione Del pesce crudo Ci sono tanti dibattiti Su la storia del pesce crudo Nel ristorante giapponesi Posso assicurare Che Ico Lo consiglio Se il suoioso Di Torino Togaglia Di centro commerciale Andate A mangiarci Ora Io vi lascio A Video Con quello che vi ha mangiato Soprattutto sera Una buona visione Deliziosa E di 10 Cosa ne pensate qua Un saluto a tutti Prontentivo E buona visione La buona visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.